se saprai starmi vicino e potremo essere diversi se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo piangere ridere vivere se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo se sapremo darci l'un l'altro senza senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto E quando non ci vejo, io penso in você, vejo amanhecer, até quando eu me dei tuoi. E i trami codici sono tenuti, ciascuni a relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità del lavoro professionale e più agroalismo, a contribuire ai bisogni della famiglia. L'articolo 144, il diritto della vita familiare, il diritto della vita familiare, i codici concordano tra loro il diritto della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze dei bambini e quelli prevenienti della famiglia stessa. A ciascuno dei codici spetta il potere di attuare il diritto concordato. L'articolo 147, il diritto della vita familiare, il diritto della vita familiare, il diritto della vita familiare, il matrimonio impuneranno i miei codici il loro diritto di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio nel rispetto delle loro capacità di integrazione naturale e istruire, secondo il quale previsto dall'articolo 315 list. Articolo 315 list, diritti di ormai del figlio. Il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente il figlio nel rispetto delle sue capacità, delle sue integrazioni naturali e delle sue aspirazioni. materiale di questo mister. Il figlio ha il diritto di crescere in familiare di patria a parte simbric ruralmente e parenti. Il figlio è il mio rappresentato del giro del 2070 e anche aveva un'attenda di ragazzo della parente di culture Ohio. Io avevo un segno mio pezzo eOO. Io avevo un po' più di dii edificio per la figura di riservazione. Io avevo un semplice... Io voi avevo il sogno analizzare, che mi hanno ricordato bene? Grazie. 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 No, non è vero? No, non è vero? Grazie per la visione 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 Grazie per la visione